Ben tornati, si parla animatamente in studio ovviamente perché la varietà dei temi è enorme e non solo il ventaglio, tra poco parleremo della successione ai tesoro, se ci sarà ovviamente, è talmente stimolante per i tifosi che ci ascoltano che ovviamente questo ci porta a discutere animatamente anche durante la pubblicità. Ritorniamo allora alla schermata, il 4-3-3 Biturbo è un modulo giusto, intanto vorrei dire una cosa a proposito della chiosa finale sul primo titolo, Bollini a mio parere, mi permetto adesso di dare una interpretazione a quello che sembra un miracolo, Bollini a mio parere ci ha messo molto del suo, Gigi diceva che è un allenatore che ha vissuto con i grandi per tanti anni e quindi ha una forma mentis ormai tarata verso un tipo di gestione iper professionistica del calcio, sono d'accordo con te Gigi totalmente, totalmente, aggiungo però una cosa che secondo me i nuovi acquisti, questa ventata di gioventù dai 21 ai 23 anni, sono 8 giocatori dai 20 ai 23 anni arrivati a gennaio, abbia avuto la sua parte e chiedo conforto o anzi chiedo il parere di Pierpaolo. Sì sì, ne parlavamo anche prima Bruno, questi innesti sono stati mirati, non sono acquisti arrivi casuali, ci sono state delle operazioni che puntavano a portare qui a Lecce gente che fosse in grado di garantire questo schema, questo 4-3-3 molto spinto, molto esasperato, molto votato all'attacco perché l'idea di gioco è proprio questa, puntare su un centroavanti Boa, quale si sta rivelando Moscardelli capace di fare reparto anche da solo all'occorrenza e poi di fornirlo di queste due ali, questi stantuffi instancabili che per tutto il tempo finché rimangono in campo e hanno birra in corpo garantiscono corsa, pressing asfissiante sui portatori di palla difensori avversari e soprattutto poi mettere in mezzo palloni giocabili per quelli che sono gli inserimenti dei centrocampisti e stiamo vedendo le reti di Salvi, di Papini e di chi altro arriva a conto. La regia ci può mandare anche delle immagini della partita, vorrei sapere, Gioia, quando il Lecce vince papà che dice? E' contento? Sì. Contento? Sì. Esulta? Sì. A Castrignano dei Greci ci saranno un sacco di tifosi perché so che in quella zona ce ne sono tanti tifosi. Questa è una bella cosa. Ecco, guardate qui, come dici Alfredo, come dici Alfredo, Wolfi è una bella cosa. Anche quello serve per svelenire un po' il clima. Anche per i bambini, anche per i bambini. Ecco, questo era uno degli striscioni apparsi nella curva. Ecco, per Paolo c'era uno striscione, qui intanto stiamo vedendo il Lecce che dall'inizio ha aggredito gli avversari e qui vedete, ecco, io vorrei che la regia mi riproponesse questa azione di Embalo perché stiamo per arrivare ad Embalo. Embalo in quell'azione, tra poco lo rivedremo, crossa di esterno sinistro dalla destra. Spazio. Dalla destra. Anche perché dicevo che ha quasi solo il sinistro. Guardate, guardate, ecco, un cross così, è bellissima questo gesto tecnico, un cross così non tanti giocatori lo sanno fare. C'è la trivela famosa. Non tanti giocatori. Questo è Roberto Carlos. Quaresma con la sua... Lo faceva, vabbè, lo faceva Cruyff, il maestro di quel tipo di cross era Johan Cruyff, no? È stato lui il maestro. Anche se Bollini non lo mette dalla parte opposta per fare il cross ma per fare gol. Lui praticamente lo mette a piede, si dice a piede invertito, non a piede inverso per quello, per andare a convergere verso il centro per fare gol. Bollini sicuramente si aspetta che si accentri per fare gol. Cosa ne pensate di queste due ali, Gustavo ed Embalo? Tra l'altro, Dumbià si è allenato oggi. È rientrato in gruppo. È rientrato, quindi adesso il Lecce ha, come esterni, Herrera, Gustavo, Embalo, Dumbià e anche Lepore che si può adattare. Lepore è il più grande calciatore della rossa del Lecce. Eh sì, sì, è Fabrizio. Fabrizio in esterna? Eh vabbè, Fabrizio lo può fare, se giochi in 30 metri come fa il Lecce lo può fare Fabrizio. Lo può fare. Certo. Negli ultimi 30 lo può fare. Allora, Andrea. In effetti abbiamo l'imbarazzo della scelta ormai, perché sono tutti ragazzi forti, sugli esterni siamo fortissimi. Dall'altro vedo un Lecce che partecipa con l'intera squadra alla fase offensiva, per cui hanno la possibilità di segnare anche i centromampisti, come si è verificato nelle ultime partite. Embalo per me è un giocatore veramente di prospettiva, fortissimo. Ho una tecnica individuale, un piede eccezionale. Alessandro, mister Tangolo, nella scuola di tuo figlio gioca al 4-3-3 pure lui, vero? Sì, sì. È un'offensivista, abbiamo parlato qui, figurati. Dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere. Il 4-3-3 è il modulo giusto per questa squadra? Secondo me sì, perché secondo me sì, e si vede, si è visto da subito che è quella la soluzione giusta, insomma, e siamo offensivi al massimo. È quello il modulo. Sì, è quello il modulo. Insomma, questo modulo con i due velocisti. Qui stiamo vedendo queste bellissime azioni, è stata una delle più belle partite del Lecce. Prego. L'architrave però rimane sempre Romeo Papini. Il motore? Il motore? Senza Romeo Papini perdiamo un 20%. Ebole è bellissimo vedersi, però l'architrave rimane Romeo Papini. A sostanza quella. Anche Gustavo ha fatto una grande partita. L'architrave su cui posa la casa è da vari anni Romeo Papini. E parlavamo in questo ruolo, c'erano dei giocatori in lista che non... Ma d'altra parte, torniamo al concetto dei motori, le due turbine devono avere il motore, perché se no funzionano le turbine, è vero. Papini non ha ancora capito. Se non c'è il motore, si sta cercando. Non ha capito perché non ha fatto una carriera ancora superiore. Esatto. Perché è stato un grande gioco. Ma nella prima parte della stagione Papini era inesistente. Era inesistente. Non inesistente. Molto meno di quello che si diceva. Era in ombra, ecco. Sì, sì. Ma la prima parte della stagione è una prima parte molto ombrosa, strana per tutti. Molto strana. Lo stesso Dumbia, lo stesso Lopez. Giocatori che sono... Effettivamente. Allora, io vorrei farvi vedere adesso la schermata su Embolo, appena la regia. Intanto stiamo rivedendo questo coso bellissimo, ha fatto degli spunti. Allora, adesso noi non vogliamo enfatizzare. Chi ci conosce e ci segue da anni lo sa che non siamo portati ad enfatizzare nulla. Però bisogna anche intuire quando ci sono dei valori e sottolinearli. Allora, attenzione. Guardate questa schermata. Da tempo nel Lecce non si vedeva uno così. La domanda che volevo fare è, Embolo, secondo voi, potrebbe essere il quadrado della Serie C? Per Paolo. Io credo che se questo ragazzo imparerà a maturare in fretta, probabilmente sarà una bella gatta da perare, ma per gli avversari. L'ho detto anche Bollini, a sprazzi ha dimostrato delle cose strepitose. Però appunto a sprazzi. Non gli si può chiedere di giocare 90 minuti a quei livelli perché sarebbe improponibile, nonostante la giovane età. Però è chiaro che ha dimostrato di avere ancora qualche margine di crescita e di miglioramento, soprattutto sotto l'aspetto della scaltrezza. Perché se volentieri gli avversari con dei falli molto subdoli sono riusciti ad innervosirlo, oppure a fare dei falli, lui invece pensava di aver diritto a prendersi quelle punizioni. L'arbitro non le concedeva, è stato un arbitraggio che ha lasciato molto correre. Quindi va smaliziato un pochino questo ragazzo. Allora, ricordo che ha 21 anni, viene dal Carpi ed è della Nuova Guinea ed è cresciuto in una specie di cantera. Tra l'altro la cantera dove è cresciuto a quanto pare è di proprietà di Murigno. La cantera dove è cresciuto è di proprietà di Murigno. La scuola calcio, chiamiamola così, dove è cresciuto è di Murigno. Pensate un po'. Grande selezione. Pensate un po', io ripeto, da tempo nel Lecce non si vedeva uno così. Dai tempi, secondo me, di Quadrado e prima ancora di Valdés. Quindi Valdés, che comunque giocava in un ruolo un po' diverso da lui, Valdés non era un esterno d'attacco, però era uno che aveva i numeri, saltava l'avversario, era veramente straordinario, ricordate la stagione con Papadopolo. Poi Quadrado e poi Embalo. Forse anche Conan. Anche Conan, sì. Anche se Conan fisicamente era più debole, più leggero, diciamo così. Poi era anche più punta. Cioè, una Conan prima punta forse poteva fare un Embalo. Aveva meno fisico. Ecco, aveva meno fisico. L'ha purtroppo dimostrato nel tempo. L'ha purtroppo dimostrato nel tempo, sì. Aveva meno fisico. Non è stato più recuperato. Dopo l'infortunio col Torino, lui, no? Sì. Fida da sua capire. Aveva meno fisico. Un giocatore, tra virgolette, leggerino. Poi mi permetto di dire, forse non dotato della giusta cattiveria agonistica. Allora, adesso vorrei, sono curioso di sentire il parere di Gigi Bruno, che insomma, di giocatori se ne intende sicuramente più di noi. Sicuramente ha delle qualità. Esplosivo, bari centro-basso, veloce, ha forza nelle gambe. Poi si vede già, ha delle ottime qualità tecniche. Certo, bisogna aspettare. Bisogna aspettare? Certo. Ma bisogna aspettare per altre categorie o per questa? No, no, secondo me bisogna aspettare nel tempo per vedere se continua a migliorare. Ma per questa categoria non è pronto? No, no, sta dimostrando che può fare bene. Però, voglio dire, ci vuole del tempo per andare a fare paragoni tipo quadrato, voglio dire. Beh, sì. Al momento è un azzardo. Io perciò dicevo, è il quadrato della C, certamente facendo le debite proporzioni, Perché il quadrato nel Lecce ha giocato in Serie A, perciò dicevo, è il quadrato della C? Sì, sicuramente è un giocatore che ha qualità, sicuramente può essere un punto di forza del Lecce, questo senz'altro. E lì subentra anche la capacità di Bollini di avere a che fare con i giovani, di saperli motivare, saper trarre da loro il meglio perché è in poche settimane e si è guadagnato una maglia da titolare. Questo è un aspetto importante perché sono dei giovani che hanno fame, hanno voglia di crescere e quindi quando c'è una squadra datata viene meno proprio quell'aspetto. E' gente che vuole emergere, gente che vuole fare il calciatore professionista, quindi ci mette, quindi il giocatore ci mette quel pizzico di energia in più che fa la differenza. Ma poi è venuto per giocare, a Carpi, capolista in Serie B non aveva spazio, scende di una categoria e lo fa per venire a giocare appunto. La fame fa la differenza. Perché l'occasione è ghiotta per lui, pochi mesi per mettersi in bella pista. Io vorrei capire una cosa, c'è chi ha detto che queste tre vittorie del Lecce convincenti però non sono un banco di prova probante, perché sono state ottenute contro tre squadre di medio-basso taglio, adesso ci sono gli esami di maturità insomma, no? Adesso ci sono gli esami di maturità. Però Bruno non è vero. Ma io non mi voglio sbilanciare su questo, infatti. Perché le piccole squadre ci hanno dato in testa. Esatto, sono quelli punti che mancano. Io, questo è un Lecce che non gioca solo di contropiede, è un Lecce che fa gioco. Sa fare tutte e due le fasi, secondo me, sia impostare il gioco, sia giocare di contropiede. Io credo che per le grosse squadre sarà difficile, perché quando dovranno fare gioco, fermare gli Embaro, gli Herrera non sarà facile. Comunque su questo argomento ritorniamo, ritorniamo dopo perché ci sono dei titoli proprio ad hoc per questo argomento. Comunque scusami Bruno, per fare una media punti ci serve del tempo, perché ieri guardavo la gazzetta, si alzardava una media punti, no? L'Erda 1,50 a partita, Bollini 3 punti a partita. Però voglio dire, questo è semplice, voglio dire, per le prime tre partite. Questa media dobbiamo farla un po' più avanti, quando poi incontrerà anche squadre di rango. Io vorrei farvi vedere il titolo di Miccoli, che a quanto pare, ormai lo dicevamo prima, abbiamo ormai dato per sicura la notizia. Miccoli al cuore non si comanda, resta fino al termine della stagione, avendo avuto l'opportunità di andare in Ungheria, come sapete, avendo avuto anche l'idea di smettere con il calcio, di fare altro, sapete che a San Donato ha anche una scuola calcio importantissima che annovera 250 ragazzini che giocano. E quindi al cuore non si comanda, lo dico ai due maestri che sono maestri anche di questa concezione, perché per fare arti da combattimento o arti marziali che dir si voglia ci vuole un cuore... Eh, Alessandro, sentiamo, al cuore non si comanda, ha detto. Il cuore sul ring bisogna tenerlo abbastanza. Intanto ci vuole un grande cuore e deve essere sano soprattutto. Sì, quando mancano le forze il cuore deve mettere la sua parte. Commentami un attimo questa posizione di Miccoli, allora così chiudiamo l'argomento. Beh, Miccoli è un grande, Miccoli ama, ama Lecce, ama il Lecce. Secondo me è bastato poco per fargli cambiare idea, perché Miccoli è uno di noi, insomma. Pierpaolo, l'anno scorso giocava in Serie A, attenzione, nel termo. Quest'anno in C, poi due anni fa giocava in Serie A, uno scorso in C, quest'anno in panchina, ma è talmente tanto l'amore che sembra in grado di dire accetto tutto, pur di stare ancora qui. Beh, in questa foto che stiamo vedendo, alla fascia del capitano al braccio, lui è il capitano, si sente il capitano, è l'uomo che guida questo spogliatoio. Anche con Lerda, nell'ultima fase dell'esperienza di Lerda, quest'anno sulla panchina giallorossa, l'abbiamo visto spesso a Salerno, se non ricordo male, incitare la squadra, sostenere compagni, fare quasi da vice all'allenatore del Lecce. Perché ha capito che può avere anche questo ruolo, se non è in grado di aiutare la squadra stando in campo, lo può fare anche stando ai margini, stando in panchina. Ovviamente avere un Miccoli che in allenamento aiuta a crescere i ragazzi di cui è ricca questa squadra oggi, perché la campagna di acquisti e cessioni di gennaio ha svecchiato la rosa, sono arrivati tanti ragazzi, è andato via qualcuno un po' avanti con l'età, sicuramente è importante perché da Miccoli tutti possono imparare. Ed in allenamento lui si sta divertendo adesso con Bollini, perché Bollini fa giocare sempre dopo ogni allenamento la partitella, fa fare degli esercizi particolari, quindi Miccoli sta ritrovando anche il gusto del giocare e dell'allenarsi. Posso fare un paragono nobile? Sì. Mi piace l'idea che Miccoli sia il nuovo Boniperti, da capitano a presidente. A presidente, chissà. Spero che lo vengono. Allora, eccolo qua, guardate questa foto com'è descrittiva proprio di questa situazione. Proprio bella questa foto. Allora... L'abbraccio Bruno, l'abbraccio di Salvito per il gol. Sì, sì, che è andato a cercarlo, ma poi abbraccia Miccoli e lo dice senza la stampa, per noi è importantissimo. Gioia, tu studi al liceo delle scienze umane perché voi vorresti diventare psicologa. Sì, mi piacerebbe. Tra poco finisci. Tra due anni, sì. Vorresti prendere psicologia per diventare psicologa? Probabilmente sì. È importante la psicologia nella vita? Quanto oggi, di questi tempi, nel 2015? È sempre stata comunque importante, secondo me. Oggi più o meno di prima, secondo te, Gioia? Di più. Più, forse hai ragione, più di prima. Perché siamo troppo bersagliati da mille cose e uno perde il senso dell'equilibrio più facilmente rispetto a prima. Vero per Paolo? Il senso della misura. Il senso della misura e dell'equilibrio. I punti di riferimento classici, pian piano li stiamo perdendo. E quindi sicuramente la psicologia oggi serve molto di più rispetto a qualche anno fa. E quindi tu hai scelto il liceo delle scienze umane perché vuoi fare la psicologa. Sì, vorrei prendere o psicologia o comunque sociologia. Ma con chi parli di psicologia? Con tua sorella, con le amiche tue? Con chi ci parli? No, non c'ho... Ancora no? No, ancora no. Ancora no, però qualcosa ti avrà attratto, se no non avresti... Sì, bella, comunque la mente dell'uomo. Mi piace... Indagarla. Sì. Indagarla. Allora, cari maestri, noi tra poco abbiamo la pubblicità, perciò questi minuti, come promesso, li utilizziamo per presentare questa manifestazione. Dico ai tifosi dell'Ecce, agli appassionati di calcio, di non cambiare canale, perché questa manifestazione è eccezionale, ma dopo ci sarà la ripresa con l'analisi invece della questione societaria. Questione societaria con tutte le novità e una sorpresa in collegamento di cui non vi voglio dire ancora niente. Allora, vediamola. Vediamola a Locandino. Guardate, 28 febbraio 2015, Palasport di Lecce, Piazza Palio, la notte dei gladiatori, Eliostim organizza in memoria di Aldo Satriano questa manifestazione straordinaria, la quarta edizione, Rai Sport, selezioni nazionali per Octagon, sto indicando, Octagon è la manifestazione più importante a livello nazionale che si tiene a Milano ogni anno e poi ci sono le selezioni per, dillo tu Andrea. Le selezioni per l'M1 Global, che praticamente è la prima selezione in Italia dell'M1 Global, la facciamo a Lecce. L'M1 Global è un'organizzazione russa per quanto riguarda la disciplina dell'MMA, cioè della Mixer Marcell Art. per cui abbiamo l'onore di fare la prima selezione qui a Lecce ed è importantissimo perché è una disciplina sportiva che sta prendendo molto piede a livello nazionale, anche se rispetto ai Paesi dell'Est siamo un po' indietro rispetto anche all'America che ha nell'UFC la sua grande espressione nell'MMA. Noi abbiamo dei grandi atleti, delle risorse umane importanti nell'esporto da combattimento e noi dal punto di vista nostro cerchiamo di valorizzarle presentando questi galà, queste manifestazioni di alto livello. Fatichiamo molto per poterle realizzare perché realizzare dei galà del genere significa impegnare delle risorse economiche importanti e umane e grazie anche agli sponsor che ci sostengono riusciamo a fare tutto quanto. Alessandro si comincia alle ore 20 sabato al palasporto di Piazza Palio, quanti atleti saranno impegnati? Saranno 13 match e tutti incontri professionistici di alto livello. Ci sarà anche il nostro Golden Boy, Guglielmo Carata, che farà un match di rientro ma subito dopo, fra 20 giorni, dovremo andare a difendere il titolo mondiale in Francia. quindi sarà dura soprattutto in Francia. Qui lui è pronto, è pronto e siamo ormai all'ultimo anno. Guglielmo Carata che noi abbiamo ospitato in questa missione l'anno scorso con grande piacere, un vostro campione. Sì, il nostro campione. Abbiamo vinto il titolo mondiale l'anno scorso a Milano, c'erano 13.000 persone che lo applaudevano. Stiamo parlando di un campione del mondo. Pensate un po', a Lecce c'è un campione del mondo e insomma siamo stati tra i pochi ad occuparcene, devo dire, con grande soddisfazione. È un prodotto dell'Aelio Steam di Lecce, per cui è un nostro campione che porta avanti i colori leccesi a livello mondiale. Allora ci saranno 13 incontri, ci sarà la box anche quest'anno? No, quest'anno la box non è prevista, sono previste le discipline del K1, della Muay Thai e dell'MMA. K1 Muay Thai che è la disciplina thailandese meravigliosa, perché c'è un rituale anche religioso quasi. Sì, sì, è religioso, è la Ram Muay, è la danza propiziatoria che l'atleta, il fighter fa prima del match, con una specie di danza che serve anche... Sto vedendo l'espressione del dottore Capone, che non ha mai partecipato a questo tipo, ho capito bene, non ha mai partecipato, quindi al termine della vostra lo inviterete, inviterete, perché sabato sarà eccezionale. cosa possiamo dire? Allora, intanto la selezione per l'M1, che prevede la Mixer MMA, Mixer Martial Art, vogliamo spiegare in due parole cos'è la Mix Martial Art, perché tra tutte le discipline è la più nuova, è la più nuova, però è così, è cruenta, è cruenta, è cruenta, è cruenta, Pierpaolo, è cruenta. Allora, nell'M1 si utilizzano tutte le tecniche che si utilizzano nelle discipline della lotta in piedi, quindi pugilato, tecniche di calcio, tecniche di gomito, tecniche di ginocchio, quindi più rispetto a queste discipline della lotta in piedi, esiste anche la lotta a terra, che è tipica del Jiu Jitsu, del Judo, del Brazilian Jiu Jitsu, quindi è una lotta a 360 gradi, sia in piedi che a terra, per cui viene di solito fatta nella gabbia, per cui non c'è possibilità di scappare. Si sta definendo Gigi Bruno, non è stato inquadrato dalla telecamera, ma si è ammesso il seggiolino tra lui e i maestri, non si sa mai, non si sa mai quello che può succedere, è un momento di rapto. Devo dire che gli atleti che comunque praticano le MME non sono così cruenti, fuori dalla gabbia. No, no, ma indubbiamente, qui stiamo parlando di sport, attenzione. È sempre uno sport con delle regole ben precise, per cui... Ho avuto anche come paziente un campione del mondo di Muay Thai, per cui so che si parla di persone equilibratissime. Sicuramente, anzi, proprio attraverso queste discipline, a proposito di psicologia, attraverso queste discipline si conquista un autocontrollo... Sì, 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 no, persone molto equilibrate. Eccezionale. L'anno scorso un atleta brasiliano dell'MMA non... per uno... non fece il suo combattimento, perché... Sì, si ritirò dal match. Sì, si ritirò. Perché secondo lui, in un attacco che stava facendo, mentre l'avversario era a terra, l'arbitro lo richiamò in maniera ufficiale e lui non era d'accordo, perché secondo lui il colpo che aveva portato era un colpo regolare. Regolare. In effetti non era così regolare, però si sa che i brasiliani sono un po' teste calde. Sì, permalosi, sono molto permalosi. Anche i calciatori brasiliani sono permalosi. E si ritirò, si vuole ritirare... Sì, si ritirò e quindi, nonostante fosse un atleta di livello, di primo livello, interruppe il suo match e quindi la vittoria... All'anno scorso tanti spettatori, no? Erano tanti. Quest'anno? Quest'anno sicuramente di più, ce lo auguriamo. Stiamo lavorando bene, i nostri amici, i nostri partner ci stanno dando una mano. La comunicazione è molto... ormai lo conoscono tutti. Conoscono tutti questo evento e ci chiamano, vogliono partecipare non solo qui a Lecce, ma in tutta la Puglia. Arrivano telefonate da Manduria, da Bari, da Foggia e vogliono venire ad assistere a questo evento. Ci saranno atleti dalla Campania, dalla Calabria o dalla Sicilia? Ci saranno atleti dalla Sicilia e non solo, dalla Campania e ci sono degli atleti che verranno da Milano e da Torino e quindi siamo pronti. Io abbiamo la pubblicità, ancora un minuto per chiedermi una cosa. La gente a casa si sta chiedendo... Io ho un figlio, dico per dire, che ha dieci anni e che non è buono a giocare a calcio, perché voleva fare il calciatore ma non è capace. Tuo figlio. Mi piace... tuo figlio? Tuo figlio. Per fargli fare arti da combattimento e arti marziali, quali sono le caratteristiche che servono? Guarda Bruno, io proprio ho un corso per bambini e partono dall'età di sei anni. Sei anni. Ed è avviamento allo sport e negli sport da combattimento. Quindi è molto importante dal punto di vista proprio della motoria, della coordinazione, della preparazione atletica. Si comincia a sei anni? Si comincia a sei anni. Come nel calcio. Anche il calcio si comincia a sei anni. Bisogna avere la passione. Poi i bambini, si sa, fanno mille sport contemporaneamente. Saranno loro a scegliere se è quello lo sport per loro, per il futuro. Il mio figlio stesso ha iniziato a fare quest'anno MMA dopo aver fatto cinque anni di K1, di kickboxing. Quanti anni c'ha adesso? Adesso c'ha tredici anni. Tredici anni. Sì. E quindi lui non era capace di giocare a calcio e ha fatto questo? Ha giocato anche a calcio, si è divertito, però siccome non era proprio il calcio. Però ti sei fatto sfuggire il figlio di Alessandro. Il figlio di Alessandro è meglio che giochi al calcio perché è molto bravo. Allora, per concludere, Gigi che ne pensi? Che ne pensi di tutto questo? A parte il seggiolino che hai prudentemente messo tra i maestri. Qualsiasi sport aiuta a crescere. Quindi io sono favorevolissimo a ogni tipo di sport. Non hai mai fatto però? Karate non hai mai fatto questo? No, io purtroppo ho una figlia che dall'altro studia a Roma ed è una stupenda ragazza che non ha mai fatto sport. E questo sinceramente è l'unica pecca che si porta dietro. Anzi, ha fatto nuoto ma era molto indisciplinata. Si voleva solo divertire. Divertire. Gioia. A tal proposito volevo spendere una parola per le atlete che parteciperanno perché ci sarà anche un incontro femminile. Femminile. Ecco. Che meraviglia. No, no, no. Che meraviglia. Non è esente. Che meraviglia. Gioia, tu hai fatto mai sport nella tua vita? Hai fatto danza a quattro anni. Quindi Gioia è a posto. Quattro anni di danza a posto. Pierpaolo che ne pensi? Tanti chi li fa io calcetto. Calcetto. E invece di questa manifestazione che è una tua chiosa? È una iniziativa sicuramente da lodare perché queste discipline stanno raccogliendo sempre più consenso. Tanti anni fa c'era il full contact. Si partì dal full contact. Noi abbiamo cominciato proprio col full contact. Queste sono le evoluzioni naturali e poi abbiamo anche fratelli siciliani qui a Lecce. Sì, c'è Fabio e Gianluca. Fabio è un pluricampione mondiale. Eccezionale. Allora, noi salutiamo i due maestri, mandiamo la pubblicità. Andrea Presicci e Alessandro Centonze. Vi invitiamo tutti sabato alle ore 20 ad andare al palasporto di Piazza Paglio a Lecce dove ci sarà la quarta edizione di questa incredibile manifestazione organizzata da Elios Team. Grazie. Grazie.